Ciao Youtubers, oggi siamo di nuovo con Mario Polito, psicologo, pedagogista, psicoterapeuta e autore di tanti libri per parlare di manipolatori, ma quest'oggi parliamo di una categoria particolare di manipolatori, cioè gli psicopatici. Infatti ritrovarsi coinvolti con uno psicopatico come minimo è un'avventura che apre gli occhi sulla natura umana e siccome la società post-covid secondo me è più frantumata di prima, forse è importante riflettere su questo argomento che fa emergere anche degli aspetti sul proprio carattere, sull'etica. È un viaggio tra virgolette all'inferno quello di avere contatti con uno psicopatico che spesso secondo me fa precipitare nella solitudine, nella rabbia, nella frustrazione e lascia proprio un senso di vuoto che persiste, che tormenta la persona per un po', ci vuole un po' di tempo. Questo l'abbiamo capito molto bene leggendo già il libro di Mario sui manipolatori. All'interno di questo libro c'è proprio un test sulla personalità psicopatica per aiutare il lettore a orientarsi. Però noi oggi abbiamo la fortuna di avere qui Mario e quindi possiamo fargli direttamente delle domande. E quindi Mario, la prima domanda che ti faccio è per forza qualche cosa che attiene alla definizione di chi è lo psicopatico. Quali sono le manifestazioni psicopatologiche principali per definire uno psicopatico? Ma innanzitutto, come hai detto tu e lo rimarco anch'io, incontrare uno psicopatico significa scendere nell'inferno. Cioè è una persona distruttiva. Allora distinguiamo il narcisista è affamato di lodi e per ottenere le lodi manipola alla grande le altre persone, ma vuole l'applauso, vuole essere gratificato di ammirazione, vuole stare sul piedistallo. Ok, distrugge le persone, è un vampiro che succhia tutta la tua energia perché si deve gratificare, gloriare, esaltare, sentirsi speciale. Ok, questo l'abbiamo detto. Lo psicopatico è un po' differente. Lo psicopatico è la persona che è orientata a farti del male. Quindi c'è la parte distruttiva e anche narcisista, ma non è necessariamente narcisista. È soprattutto orientato sul controllo. Qui comando io, tu devi sottometterti alle mie leggi, o così o sparisci. Cioè avere una persona così ti mette in grandi, grandi sofferenze. Anche perché poi gli psicopatici, come dice anche Giorgio Simon e anche la Martha Stout, cioè si mascherano. Cioè un momento ti dicono merda, 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 stronzo, io ti ammazzo e poi ti dicono ah scusa guarda ero fuori di me ma chissà che cavolo di testa ho. Dai 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 andiamo di là a letto. Sono capaci di questa cosa. Non hanno coscienza morale, non hanno empatia, non sanno, anzi sanno quello che sente l'altro e l'offeriscono di più proprio dove sanno che è più debole, ma non gliene frega niente della sofferenza che provocano negli altri. Quindi sono persone che per mancanza di coscienza morale e sono capaci di tutto. Possono farti del male senza sentire colpa. Possono eliminarti solo perché gli dai fastidio, solo perché gli hai fatto un dispetto. Queste persone se le incontri al bar e un conto giri l'angolo purtroppo l'inferno è questo che le trovi sul posto di lavoro. Esatto. L'interno di organizzazioni in cui alcuni leader non solo sono narcisisti, sono anche psicopatici. Cioè che devono avere il controllo sulla tua persona, sulla tua coscienza, sul tuo comportamento, sulle azioni che devi fare. Del tipo qui comando io, qui sono il migliore, tu non mi devi contrastare. Se mi contrasti ti agniento. Se mi invece mi segui, mi applaudi, ti esalto anch'io. Ma quando li trovi all'interno del posto di lavoro e ce ne sono. Ce ne sono. Ricorda che la Martha Stout all'interno dei suoi quattro o cinque casi che cita, cita proprio il caso di una collega psicoterapeuta che non aveva il diploma, che era invidiosa dei successi che aveva la sua collega psicoterapeuta con pazienti gravi, con una persona che aveva disturbi gravi come schizofrenia e a un certo punto la denigra e impedisce al paziente che la sua collega aveva detto Bebe, secondo me ti sei aggiustato, adesso torna a casa dopo che hai fatto un mese, due mesi qui in clinica, puoi tornare. Lei le blocca l'uscita di questo paziente per fargli un dispetto e non sente nessun rimorso verso il paziente che sta in via di guarigione e lo tiene ancora in un reparto speciale per altri mesi pur di fare un dispetto alla collega. Un altro dispetto che fa, dice ma come? Ma non vieni questa sera alla riunione? Dice come? Quale riunione? Non sai che c'è una riunione? No, non mi è stato detto niente. Guarda che alle otto stasera c'è la riunione con lo staff. Falso. dice una cosa farsa per farla poi andare la sera alle otto a questa riunione fantasma senza nessuna, nessun rimorso, solo per fare un dispetto e dire mi stai sulle scatole, non ti posso sopportare. Finché poi il capo di quell'ospedale la becca perché un paziente dice questo mio familiare ha fatto la terapia con questa persona, si è trovata male, abbiamo fatto delle indagini e abbiamo scoperto che non è abilitata alla psicoterapia. Quindi o ci date indietro tutti quanti i soldi o noi facciamo denuncia. Di fronte alla denuncia i capi dell'ospedale la prendono e la spediscono immediatamente via e la licenziano pur di non avere la denuncia. Come dire, vedi questo senza senza coscienza. La licenziano, Mario, perché perché stiamo parlando degli Stati Uniti, in Italia sarebbe stata promossa o trasferita probabilmente. Permettimi questo commento polemico perché l'ho visto succedere con i miei occhi. Sì, 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 lì sono stati severi. No, perché lei era entrata a quel posto di psicoterapia senza essere abilitata alla professione perché era andata a letto con i due supervisori che hanno poi non analizzato tutto il curriculum. Ti dico questo esempio che la Marta Stauto lo sottolinea per dire guarda che gli psicopatici non ce l'hanno scritto qua ma non avendo coscienza morale. Vanno nei posti di lavoro di responsabilità senza avere i crediti, fanno dei dispetti agli altri per dimostrare la propria potenza distruttiva, distruggono i pazienti o li sottomettono alle loro. Voglio dire adesso questo era una psicoterapeuta per dire che avrebbe dovuto ma te li trovi sul posto di lavoro che li trovi in famiglia. Può essere il padre, può essere la madre, può essere il fratello, può essere la sorella, può essere il figlio. Qui è più complicato. Anche il titolo che la Marta Stauto ha dato al suo libro che si riferisce all'ultimo caso che cita, cioè il sociopatico della porta accanto, in realtà è il sociopatico nella stessa famiglia. Questo che sembrava una brava persona perché preside di una scuola superiore, bravissimo, applauditissimo da tutti eccetera, però una notte sente dei rumori, scende, prende la pistola e spara e colpisce questo qua che non si sa ancora che è. Poi si scoprirà che è un tossicodipendente, si scopre che questo preside faceva traffico di droga ed è la figlia che racconta tutte queste alla psicoterapeuta che in questo caso è Marta Stauto e cita, dice, oh abbiamo avuto uno psicopatico in famiglia e non ce ne siamo accorti. Perché questa cosa? Ecco, mascherano. Questo è il secondo aspetto che voglio sottolineare. La mascheratura, sono bravissime persone, sono dei delinquenti dai guanti bianchi come si dice, cioè sono calcolatori, calcolano perfettamente quello che devono dire, quello che devono fare per distruggere la persona, la reputazione di una persona, diffamano continuamente e quindi suggerimento qual è? Fate molta attenzione, valutate tante persone. Un paziente mi diceva ma così divento paranoico. Ok, la paranoia succede perché ti hanno violentato, hanno abusato di te, della tua ingenuità e devi diventare più attento. Però distingui tra paranoia di vedere tutti i nemici contro di te e la capacità di discriminare per dire questa persona è affidabile o non è affidabile. Non badare alle parole perché gli psicopatici si vedono dal comportamento, comportamento senza coscienza morale, mascherato, raccontano bugie, loro devono controllarti, loro devono dire come e quando e cosa devi dire e cosa devi fare e se non lo fai ti ricattano o ti violentano. Ti dico soltanto quest'ultima cosa di una signora che aveva capito che questa persona era un po' strana già dalle prime volte quando si erano incontrati e aveva detto, la prima volta che l'ho visto è stato, non sono casi miei perché i casi miei non li cito in questa pubblica, è una citazione che viene sempre dai libri che ho letto, in questo caso anche qui di Martha Stout e di altri, e dice era ben palestrato, bellissimo, muscoloso, subito a farmi regali, subito a dire quanto ero bellissima, quanto ero strabella, stra sexy, eccetera, e io che avevo problemi di autostima, ci sono cascata come una peracotta perché ho sentirsi queste cose, poi ha cominciato, sì, a farmi subito delle proposte e siamo usciti subito e vabbè, in poco tempo ci siamo messi insieme perché con tutto questo love bombing, come si dice, che ti fanno vedere che sei la più bella, però poi alla fine quello che vogliono, anche qui i vampiri, succhiare la tua energia. Una sera dice vado in bagno e vedo che c'è una striscia di polverina tipo talco, dice cos'è sta roba? Allora torna tranquilla, aveva intuito che c'era qualcosa, dice no, sono cose così per darmi forza, per essere sempre performante, devi essere sempre performante. E poi ha capito che era cocaina, allora cominciano un po' a litigare su questa cosa e lui dice, va bene, va bene, va bene, ti accompagno a casa. Prende l'auto e sfreccia velocissimo con l'auto e lei che è impaurita, terrorizzata perché questo essendo stato scoperto, perché la paura maggiore degli psicopatici è essere smascherati. Se li smascheri, se dici guarda sei una persona inaffidabile, se dici psicopatico acqua fresca, non gli entra, devi dire sei inaffidabile, sei distruttivo, con te io non mi trovo bene, con me con te è un inferno. Queste sono le parole che toccano. Dire a un narcisista sei narcisista, dire a uno psicopatico, niente, non si sentono né psicopatici né narcisista, quindi comportamento. Questo guida e questa è terrorizzata perché sulla strada va a 150, 160, 170, le curve, però aveva anche cocaina dentro. Lo ferma, arriva la polizia da dietro, lo ferma e quando lo fermano lui cerca di fare il bravo, il buono, sai come fanno tutte quante, e gli dicono lo sa che lei è già un pregiudicato? Ma lei non sapeva. Non lo sapeva. Era un pregiudicato e quindi c'è anche quest'altra novità, cerca di abbandonarlo e lui la riacciuffa per dire se mi lasci t'ammazzo. Mi fermo qua perché i tuoi ascoltatori devono avere due caratteristiche precise, l'assenza di coscienza morale e la mascheratura, le bugie continue, più il controllo, più la voglia di fare del male, intenzionale. Quindi quando si dice sono impulsivi, no, non sono impulsivi perché calcolano tutto, calcolano anche l'omicidio perfetto, quello di far capire o far pensare agli altri che la persona si è suicidata. Questi sono i delitti perfetti. Accusare la vittima di aver fatto lei stessa qualcosa di dannoso verso se stessi. Quindi molta attenzione su questo. Poi naturalmente se ci sono delle domande più specifiche, questo però mi hai chiesto la definizione, la definizione è state attenti perché ne va non solo della vostra integrità mentale, ti fanno impazzire, ti confondono perché non sai chi è il vero, è questo che ti dice merda, merda, merda e poi ti dice ti voglio bene, andiamo di là, andiamo a letto, oppure è quest'altro, questo mostro che emerge, se dici questo ti cavo gli occhi, se dici questo ti ammazzo e ti fanno vedere il coltello brillante davanti. Bisogna stare attenti alle minime cose, come cosa fare? Allontanarsi, la prima cosa. Ma una persona diceva ma se io ho un figlio e mi ha detto se mi lasci non ti faccio vedere mai più tuo figlio, un bambino di tre anni, io ho delle mie conoscenze e so come parlare e so cosa dire di te al giudice, non vedrai mai. Come si sente una mamma? Io sono stata costretta a stare con un mostro per stare vicino a mio figlio perché non potevo lasciare mio figlio in mano a questo mostro. Allora queste cose è vero, le sentiamo poi nelle cronate. No, succedono nella porta a fianco, nella tua stessa famiglia. Quindi individua bene le frasi che usano queste caratteristiche che ti ho detto e scappa via, mettiti in salvo con la strategia del contatto zero se ti è possibile. Grazie Mario per aver descritto così bene le caratteristiche principali. A me infatti piace fare questo tipo di video perché su YouTube spesso si parla di questi temi ma ci sono anche delle buone informazioni sui social su questi temi ma tutte sempre molto disgregate. Noi infatti ci aggrappiamo sempre a libri perché così poi le persone sanno che devono approfondire. Quindi abbiamo fatto vedere già il tuo libro I Manipolatori se li conosci li eviti. Io volevo anche prima di farti la prossima domanda far vedere anche questo manuale di psichiatria il Giberti Rossi e dire una storia che secondo me ha anche del divertente, del divertente perché la storia per fortuna non è finita male. Io ho comprato questo manuale perché vedevo dei comportamenti. Io è da tanti anni che lavoro, sono più di vent'anni che lavoro in uffici, ho girato alcune aziende, molti uffici e mi è capitato abbastanza spesso, per fortuna non di recente perché adesso sono in un posto di lavoro dove ci sono delle persone per fortuna veramente fantastiche e questo ovviamente aiuta anche la vita privata e personale perché se l'ambiente di lavoro è sano, è cooperativo, la vita migliora tantissimo. Però mi sono trovata da molto giovane anche in ambienti e in uffici dove c'erano delle persone con dei comportamenti che io all'epoca non sapevo definire perché non sono laureata in psicologia, non sono laureata in psichiatria, però a un certo punto leggendo libri prima divulgativi e più superficiali ho detto ma no qui c'è proprio qualche cosa che non va di più profondo e mi sono voluta comprare il Giberti Rossi che è un libro molto tecnico per cui io sinceramente consiglio di più il tuo perché sul tuo libro il linguaggio non è tecnico e quindi può essere capito veramente da chiunque e da subito le informazioni fondamentali che sono quelle che hai detto tu, cioè alla fine noi vediamo dei comportamenti. Le persone empatiche, ottimiste, collaborative, che hanno un'attitudine buona verso gli altri e verso la vita. Ovviamente si approcciano agli altri esseri umani con fiducia che non deve essere incondizionata ma con fiducia specie in un ambiente di lavoro per esempio perché bisogna creare un gruppo di lavoro quindi la fiducia ci vuole, noi sappiamo che è un ingrediente fondamentale. Quindi le persone si approcciano così quindi sostanzialmente cercano di vedere negli altri tutte le caratteristiche positive. Perché? Perché questo aiuta a formare un gruppo di lavoro e sono proprio queste persone che si accorgono in ritardo il fatto di accorgersi di questi comportamenti abusivi o diffamatori o manipolatori ebbè più tempo una persona ci mette ad accorgersene e più danni ci sono. E poi secondo me Mario c'è anche un altro elemento di cui si parla molto poco e sul quale io mi interrogo da tanti anni che sono gli spettatori. Cioè ogni volta che uno ha dei dubbi ma secondo me questa persona ha un comportamento sopraffattorio, manipolatorio. A volte succede anche proprio che arrivi il dubbio ma questa persona ha mancanza di coscienza morale, mancanza di empatia, vuole controllare la mia vita e quindi siamo già in un campo più di psicopatico e quindi dove ci vuole il manuale Giverti Rossi. Ma gli spettatori, cioè le persone immediatamente intorno a te, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi familiari, negano questo. Anzi non solo negano ma ti dicono ma no sei tu, ma cosa ti succede? Prima questa persona ti era simpatica, adesso non ti è più simpatica oppure è pur sempre tuo nonno, è pur sempre tua zia e cercano un po' di smussare questo. Per cui la nebbia mentale, la confusione nella persona che si sta rendendo conto aumenta. Mettiamoci che in Italia c'è un clima culturale che non accetta la malattia mentale dove la malattia mentale è ancora molto nascosta, possono essere gli ingredienti per uno stato appunto di sofferenza di chi è sottoposto a questi comportamenti da parte di psicopatici che poi dura per tanti anni. Che cosa pensi Mario di questo? Cioè degli spettatori? Perché questo crea molta solitudine e secondo me chi ci ascolta e ha avuto dei problemi con manipolatori o psicopatici si è trovato in questa condizione di solitudine. Sì, questa è una situazione molto frequente perché gli spettatori della tua sofferenza non ti credono perché lo psicopatico la prima cosa che fa è creare il suo anfiteatro e far vedere a tutti gli altri che lui è una brava persona, che lui ha i guanti bianchi, che lui ha la cravatta, che lui è corretto, che lui è preciso, che lui fa tutte le cose fatte bene e cerca di mostrare agli altri in maniera un po' mista tra il simpaticone oppure il perfettino, dipende dalle caratteristiche di una persona, ma si crea prima un contesto in cui tutti gli altri devono pensare che lui è una brava persona. Per cui quando lui sceglie le vittime e le hai detto a tu, quali vittime sceglie? Sceglie le persone empatiche, le persone coscienziose, le persone cariche di energia da cui trarre combustibile, le persone buone, le persone sincere, perché così le può manipolare, le può manipolare meglio. E comincia poi la tattica di innanzitutto coinvolgerle nel proprio ruolo, del tipo qui comando io, se tu accetti la mia superiorità stai tranquilla, per tutti i secoli tu sarai apprezzata, ma non ti azzardare a dire niente contro di me, nemmeno che non ho questo talento, nemmeno che non ho questo titolo di studio, nemmeno che non so fare... Se tu li colpisci, perché poi alla fine non possono essere superiori in tutto, a un certo punto fanno degli errori e ti colpevolizzano. Dicono, a me? No, ha fatto tu. No, no, tu, tu l'hai fatto. Tu devi dire che hai fatto, io lo dico. E lì va in un conflitto incredibile. Cioè loro fanno il danno e nascondono la mano. Mi ne frega niente, perché fanno danni, perché non avendo coscienza morale ed empatia, cominciano anche a pestare gli altri e dicono, ma che cavolo di lavoro hai fatto? Ti avevo detto... perché ti arrabbi? Di, no, va bene, correggi qua, ma perché mi devi accusare davanti agli altri? Cioè tu non sai fare il tuo lavoro? Va bene, dimmelo in ufficio, perché qua... Allora, se tu reagisci e dici no, ti obbligano a dire no, tu devi dire che hai fatto l'errore, ma se l'hai fatto devi dire... E lì vai fuori di testa, vai confuso. Parli con una collega e ti dici ma no, ma veramente, ma così, è così, perfetto, è così. Con me non l'ha mai fatto, certo, con te non l'ha fatto, perché ha capito che da te non ricava niente, ma da me, che sono una persona coscienziosa, che mi sento un po' di dolore persino se uccido una zanzara, e gli dico, sorella, perché viene a rompere le scatole qua? È giusto Mario, e poi certe volte è anche una questione, scusa Mario se ti interrompo, certe volte anche non l'ha ancora fatto con te, non l'ha ancora fatto, ma chissà. Sì, ma potrà farlo solo se è candidata, se è nella lista dei candidati da vampirizzare o da sottomettere, perché lui quando arriva in un luogo subito definisce come io o te, quando andiamo siamo affamati e stiamo sul corso, distinguiamo panetteria alimentari, panetteria alimentari, e non vediamo nessun altro negozio soltanto perché siamo affamati. loro sono affamati di potere e dicono questo lo sottometto, quello no, questo sì, quello no, quello no, quello lasciamo perdere, e hanno la lista. Finito te cominceranno sempre con qualcun altro, finché non trovano un altro psicopatico più forte di loro, due galli si attaccano, uno dei due vincerà, però gli altri stanno ad osservare perché non credono alla tua versione. Dicono no, sei tu che sei suscettibile, sei tu che non lo sopporti, sei tu che gli dai contro. Ma guarda che ha detto, ha fatto lui questo errore e ha detto, ha scritto la lettera che sono stato io. Non è vero, è falso. No, ma forse voleva coprire l'azienda, voleva coprire l'ufficio, ma dai, ma cos'è, cosa ha scritto di mano? E negano. E lì vai fuori di testa. Che cosa succede a questa persona? Confusa. Va addirittura in crisi e dice, ma allora sono veramente, non sto capendo la realtà? O la percezione è sbagliata? Allora in quel caso ci vuole quello che io chiamo un verificatore della verità, che può essere un amico sincero, una amica sincera, un familiare sincero o un terapeuta. Molte volte sono stato io nella terapia a dire, guarda, no, 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 guarda che questa cosa è descritta nel manuale di psichiatria, è scritto che fanno degli errori e colpevolizzano gli altri, defecano nel tuo salotto e dicono che puzza che c'è nella tua casa, ma se l'hai fatta tu nel salotto ti accusano a te di essere sporco. Loro in su diciano tutto e ti accusano, è scritto, guarda nel manuale di psichiatria, dicono bugie, non hanno empatia, ti stanno facendo del male, non sentono il male, o non lo sentono, sanno che ti stanno facendo, ma se ne fregano. È scritto, guarda, guarda, allora gli faccio la verifica e dico, guarda, non è la tua percezione. Questi personaggi psicopatici sono stati descritti, ci sono nel DSM, sono previsti dalla psichiatria. Certo, descrive soltanto quelli più eclatanti, non quelli mascherati. Purtroppo nel prossimo DSM, fra dieci anni, tutte le indagini che abbiamo fatto io e migliaia di altri psicologi sul campo verranno assorbite dai tecnici, dagli psichiatri tecnici, e diranno che oltre lo psicopatico manifestamente psicopatico aggressivo, distruttivo, c'è anche lo psicopatico mascherato e ci sarà come si comporta lo psicopatico mascherato, con le stesse caratteristiche dell'altro, ma nascoste e ti inganna. Allora, quando tu ti presenti, e anche lo dico se avete delle persone che stanno soffrendo, fate da verificatori, fate in modo che quando parlano con loro abbiano in voi una persona che ha una maggiore lucidità e dice, no, guarda, succede questo perché fa così, cioè ti maltratta perché non gliene frega niente di te, ha bisogno di maltrattarti. E questo gli dice, perché? Perché se ti maltratta lui cresce, più tu vai giù, più lui ti tira su, come il caffè di una volta che diceva, più scende giù e più ti tira su. Loro così fanno, più colpevolizzano gli altri, più si sentono su, più dicono che tu non hai talento. Quando non hanno talento, invidiano chi ha talento e cercano di farlo fuori. Hanno il complesso di Caino. Perché Caino ha ucciso il primo psicopatico della storia? Perché ha ucciso, ucciso il fratello? Mica gli aveva fatto qualcosa, gli aveva detto stronzo. No, stava per le sue cose. Aveva le sue greggi, aveva i suoi campi, coltivava. L'unica cosa che faceva differente, prendeva un agnellino e diceva grazie vita, grazie Dio per questa cosa. L'unica cosa che faceva di diverso. Invidioso. Lo psicopatico, tu hai un talento, sei più intelligente, hai scritto 33 libri e chissà come hai fatto. Perché lui ne ha scritto uno o due. Allora o ti copia o ti usa le tue cose o copia da altri. Tu hai scritto 100 canzoni e ti invidia perché lui non ha la stessa creatività e ti distrugge. Cioè che non sei un vera artista, che non sei veramente, che copi, ti diffama, invidia. Cosa fa Caino? Per sentirsi unico, nota. Per sentirsi unico, unico, unico. Uccide l'altro. Bravo. Adesso ti senti unico, speciale, straordinario. Non hai più rivali. Puoi comandare come ti pare e piace. Non ci sono più competitori. Non ti devi confrontare più con il talento dell'altro. Sì, sì, sì. Sono gli psicopatici che creano prima l'anfiteatro di applauso di brave persone, poi attaccano solo alcune. Ripeto, solo alcune. Allora nel libro c'è il test. Sei una persona empatica? Sei una persona che può diventare vittima e preda? Fai il questionario. Se rispondi a queste varie domande e rispondi sì, stai attenta. E quali sono le strategie che propongo? Strategie di assertività, di autostima e poi di abilità sociali per sapere come si risponde a uno psicopatico.